Voi donne invece, igiene della parte inferiore del corpo, nettamente superiore, anche solo per il fatto che per voi è socialmente accettato fare il bagno anche dopo i nove anni. È una cosa che potete fare. Stasera una qualsiasi delle ragazze, delle donne presenti qua in sala, fa un bagno, mette una storia, la mette su Instagram, è anche sexy, è sensuale, ci scopa pure con sta cosa. Prendete l'uomo che avete accanto in questo momento, immaginate che lui stasera torna a casa e mette una storia di lui che fa il bagno. Pensereste, ok, si sta suicidando. Questo è il suo ultimo messaggio, così vuole dire addio, poi prenderà l'asciugacapelli e lo butterà nella vasca. Per noi uomini è socialmente accettato fare il bagno solo prima dei nove anni e dopo gli 85. Letteralmente noi possiamo fare il bagno solo quando siamo così poco autosufficienti che per lavarci abbiamo bisogno di un'altra persona che ci prenda e ci immerga in un liquido.